fotografo picchiato da alcuni manifestanti. Insomma, intanto tu eri alla manifestazione, sei andato o non sei andato? No, non sono andato, non sarei andato. In ogni caso perché per me qualunque manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese deve avere in premessa un giudizio netto sulla carneficina del 7 di ottobre. Non si combatte la barbarie cancellando, rimuovendo la barbarie. Io vedo oggi da un lato l'orrore prodotto da Hamas, non riesco ad avere nessuna simpatia per gli Hezbollah e per il loro riferimento che l'Iran della teocrazia, quella che massacra le donne, le ragazze, per me l'Iran mi fa battere il cuore pensando sempre a donna, vita, libertà, questo slogan che con grande coraggio una generazione di giovanissime rischiando le torture, rischiando la reazione della polizia. E quindi il 7 ottobre è un punto che non si può minimizzare o rimuovere perché una carneficina di ragazzi riuniti in questa zona del deserto a ridosso di Gaza vicini a quei kibbutz dove abitano prevalentemente amici dei palestinesi. Stasera io racconterò proprio una storia di una donna e l'idea che sgozzare, torturare, stuprare, sequestrare dei ragazzi possa essere considerato un inizio di rivoluzione o un episodio di resistenza, io non lo condivido. A questo fatto barbarico il governo di Netanyahu ha reagito e sta reagendo in questo momento perché l'area del conflitto dopo aver devastato Gaza, dopo aver consentito ai coloni appoggiati dall'esercito di continuare nella West Bank, in Cisgiordania, l'opera di colonizzazione violenta. Ora il conflitto si è allargato al Libano, allo Yemen e probabilmente all'Iran. Allora abbiamo la guerra sopra le nostre teste tra russi e ucraini, la guerra sotto i nostri piedi, in questo Medio Oriente che è ritornato a esplodere, in un mondo in cui la parola pace è stata semplicemente abolita. Non si parla di disarmo, non si parla di mediazione, di compromesso, ma tutto il mondo politico, tutte le elite mondiali sembrano aver intrapreso, diciamo così, la strada della corsa al riarmo. E anche noi che siamo seduti comodamente nei nostri salotti siamo reclutati perché le parole si stanno militarizzando, le parole si stanno incattivendo, c'è una specie di reclutamento ideologico alla guerra, nelle retrovie, una si comincia ad assuefarci all'orrore. Io di fronte al fatto che ci sono 16.000 bambini massacrati a Gaza non mi rassegno. Non mi rassegno. Noi spesso qui, siamo un programma di parole, abbiamo notato più di una volta come ad esempio oggi si parli delle bombe atomiche come se fosse un argomento di conversazione. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Donald,